La scuola che vorresti che provvedesse alle tue passioni, potresti incrociarla quando meno te lo aspetti. Cosa sono questi suoni? Dai ragazzi, veloci! Vostro padre non vi sta guardando! Entrate nell'affascinante mondo del liceo musicale Bertolucci. Tutti insieme sui libri di storia, matematica, filosofia, per poi imbracciare il proprio strumento e suonare fianco a fianco le più belle pagine di musica. La musica ha infiniti linguaggi. Classica Etnica Ball Jazz Alberto Luci puoi studiare tutti gli strumenti musicali. Dai più conosciuti A quelli meno Qui convivono sacrifici e passioni. Come nella musica, silenzi e suoni si rincorrono per completarsi. Non perdere l'occasione di iscriverti al liceo musicale Bertolucci. Non perdere l'occasione di diventare un membro del gruppo. Ciò che non si può dire è ciò che non si può tacere. La musica lo esprime. Grazie 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 Grazie